e ben ritrovati ragazzi sul nostro canale innanzitutto devo subito ringraziare wave master audio e influence for brands perché anche oggi si ragazzi vi parlo di un bel prodotto audio da sempre i miei preferiti quando si parla di tecnologia qua di fronte a me ho una bella scatola ma che adesso togliamo perché perché voglio parlare di loro le wave master cube neo bambù 2.0 sono innanzitutto delle casse che si abbinano perfettamente al tavolo questo qualche uso per per i video per le recensioni sono casse che sono assemblate in bambù oliato e cerato quindi nel caso le avesse non pulite le mai con alcol altrimenti rovinate la finitura sono delle casse che per quanto si presentino come speaker da studio i cosiddetti monitor in realtà sono casse bluetooth quindi utilizzabili in portabilità ovviamente pesano un po qualche chiletto lo pesano le dimensioni non sono eccessive per essere delle casse diciamo ad alta fedeltà però ovviamente sono pensate wireless nel senso di meno ingombra possibile nel salotto nello studio piuttosto che ovviamente casse da portarsi in giro qua dietro vi faccio vedere il retro della cassa destra che è quella che comanda poi quella a sinistra che eventualmente possiamo andare ad attaccare tramite gli appositi connettori ed il cavo che viene dato in confezione come dicevo cuffie wireless ma che possono essere utilizzate anche in maniera cablata come vedete infatti dietro abbiamo l'attacco aux normale per quindi smartphone tablet eccetera abbiamo l'attacco rca quindi per magari televisioni computer o quant'altro se aveste un subwoofer in più attivo potete volendo collegarlo alla cassa abbiamo anche l'attacco ottico tos link quindi per sfruttare sorgenti audio a 24 bit 96 kHz tra l'altro 24 bit 96 kHz che sono anche raggiungibili tramite il convertitore digitale analogico integrato qua al suo interno tornando alla parte frontale vedete il potenziometro per regolare il volume volume che può essere regolato con veramente molte posizioni quindi con una buona precisione questa è una cosa che mi piace sempre molto potenziometro che funge anche da tasto perché premendolo una volta che si è accesa si passa alla sorgente successiva quindi cavo aux cavo rca bluetooth eccetera e per sapere a quale sorgente effettivamente siamo collegati c'è un led di stato che a seconda del colore che mostra appunto significa che è collegato a una sorgente piuttosto che un'altra per quanto riguarda la componentistica audio al loro interno c'è un twitter da 25 mm con rivestimento della cupola in seta e c'è anche un woofer da 15 cm che quindi si occupa delle frequenze più medio basse con un cono in cellulosa il tutto è poi alimentato da un amplificatore dedicato a doppio canale che permette di avere un output un volume anche molto corposo e quindi è possibile anche tenere un volume piuttosto alto anche senza incappare in particolari distorsioni in confezione le casse vi arrivano anche con i cavi aux ed rca per poterli già collegare oltre che chiaramente il cavo che collega le due casse ma cosa molto importante c'è anche un telecomando ad infrarossi con già anche le pile comprese che non fa mai male di comando devo dire molto molto comodo perché ovviamente oltre a poterci regolare il volume disattivare e mettere muto quindi o cambiare la fonte sonora da cui stiamo stringendo un tasto 0 centrale che praticamente resetta l'equalizzazione che abbiamo impostato abbiamo anche un tasto tone the fit che praticamente fa sì che una volta che abbiamo impostato la nostra equalizzazione preferita premendolo la disattiva finché poi non lo ripremiamo nuovamente e ritorna l'equalizzazione quindi se magari noi abbiamo impostato un'equalizzazione che ci piace magari c'è un file audio o un video che non si addice particolarmente basta premere questo e si disattiva infine abbiamo il tasto loudness anch'esso molto molto utile perché fa sì che quando teniamo le casse ad un volume molto molto basso cosa succede le frequenze basse spariscono perdono di definizione bene premendo questo tasto che funziona praticamente soltanto quando il volume è molto basso le casse lo capiscono e vanno a rimpolpare un po le frequenze basse in modo tale da renderle più nitide anche a volume basso le potete trovare in commercio anche su amazon vi lascio il link qua sotto in descrizione allo store ufficiale di wave master ad un prezzo che uscilla fra i 170 e i 250 euro dipende anche se volete la variante in bambù o la variante nera fatto sta che vi lascio tutte quante le le informazioni qua sotto in descrizione queste erano le wave master neo cube 2.0 io vi ringrazio della visione e ci vediamo ad un prossimo video